La ragione principale per la quale in questo momento ti senti bloccato e credi di non poter raggiungere il tuo obiettivo è che ti stai ponendo la domanda sbagliata. Ebbene sì, questa è un po' la tematica che costantemente caratterizza le consulenze che faccio con i studenti del Master 10 e del Master 30K. Lo studente si presenta in consulenza e sistematicamente crede di avere una ragione specifica in base alla quale è bloccato e pensa di non poter perseguire il proprio obiettivo. E ogni volta che approfondisco una situazione del genere, quello che emerge è che lo studente che ho davanti si sta ponendo la domanda sbagliata. Una domanda che non soltanto è sbagliata, ma che purtroppo blocca di fatto il percorso dello studente. Qual è quindi questa domanda sbagliata? Anzi, qual è la domanda giusta che dovresti porti per poter raggiungere il tuo obiettivo? Beh, prima di tutto la prima domanda che non dovresti mai farti è cosa? E questo purtroppo è in realtà un problema, un'abitudine che tante persone hanno. Cosa devo fare per raggiungere il mio obiettivo? Magari quale business devo scegliere o quale azione specifica devo compiere? Siamo tutti quanti perennemente incastrati in questa domanda che è un circolo vizioso che non ci porta mai a ottenere alcun tipo di risultato. Perché la verità dei fatti è che ogni volta che interagisci con un obiettivo da perseguire, beh, tu non lo sai cosa dovresti fare per raggiungere il tuo obiettivo. È normale, se all'inizio non potrebbe essere diversamente. Per cui piuttosto che continuare a chiederti cosa fare per raggiungere il tuo obiettivo, beh, quello che dovresti farti è concentrarti su qualcos'altro, porti un altro tipo di domanda. E questa domanda non è neanche come. Perché sì, molti studenti pensano di essere più furbi degli altri, o magari pensano di essere semplicemente più avanti nel loro percorso di consapevolezza, per cui sanno che non dovrebbero chiedersi cosa fare per raggiungere un certo obiettivo. Quindi fanno uno step e si concentrano sul come. Come dovrei fare una certa cosa per raggiungere il mio obiettivo? O come dovrei fare in modo di guadagnare una certa cifra? O come dovrei comportarmi se dovessi rendermi conto che sbaglio, commetto un errore, che invece di essere nella direzione dell'obiettivo mi trovo in un'altra direzione? Ecco, anche il come, purtroppo, è una domanda che per quanto magari per qualcuno di voi potrà sembrare logica, in realtà tende a bloccarti, tende ad ostacolarti nel tuo percorso. Quindi, se la domanda giusta da farsi non è né cosa né come, qual è la domanda giusta da porsi? Ecco, la domanda giusta da porsi è chi? E per capire il perché di questa domanda, dobbiamo prima aprire una parentesi molto importante e comprendere che ci sono soltanto tre forme di apprendimento. Ora, a questo punto potresti chiederti, Roberto, ma a me cosa interessa? Cioè, perché dovrei capire quali sono le forme di apprendimento se a me l'unica cosa che interessa è raggiungere il mio obiettivo? E la risposta a questa domanda è molto semplice, sappi che se hai questo dubbio è illecito, ce l'ho avuto anche io in passato. Beh, ti interessa padroneggiare l'apprendimento perché è questo il processo che ti permetterà di raggiungere il tuo obiettivo. Quindi, ti ricordi quando prima ci chiedevamo cosa fare o come farlo? Ecco, queste sono due domande che trovano una risposta molto semplice nel momento in cui comprendi che cosa devi apprendere per raggiungere il tuo obiettivo. Ma soprattutto nel momento in cui comprendi che cosa realmente è l'apprendimento. Perché l'apprendimento, voglio dirtelo subito, non è niente che ha a che fare con le esperienze che hai fatto a scuola. Quindi apprendere non significa immagazzinare informazioni. Apprendere non significa acquisire nuove competenze. Apprendere non significa neanche memorizzare il corso o il libro di turno. Apprendere significa mettere in pratica una nuova azione che cambia il tuo risultato. Per cui tanti di voi che mi seguono, lo so che hanno questo problema, no? Comprano corsi, acquisiscono informazioni, non riescono mai a metterle in pratica. Si comportano quindi sempre allo stesso modo. Ecco, sappiate che non avete appreso nulla. Perché l'apprendimento si manifesta esclusivamente nel momento in cui, nella solita situazione di sempre, voi vi comportate in un modo diverso e da questa nuova azione arriva un nuovo risultato. Quello che desideravate. Quindi una volta capito che l'apprendimento è fondamentale per raggiungere un obiettivo, andiamo a snocciolare quali sono le tre forme diverse di apprendimento, delle quali non soltanto dovresti essere consapevole, ma che dovresti anche scegliere perché abbiamo capito che l'apprendimento è necessario per raggiungere il tuo obiettivo. Allora, la prima forma di apprendimento è una forma di apprendimento che è cara a tante persone. Io mi permetto di dire che tipicamente sono quelle persone che hanno una visione che si basa sulla scarsità e la limitatezza. Sono quelle persone che credono che il modo migliore per apprendere sia facendo esperienze. Quindi il classico, no, commetto errori e poi, prima o poi, imparo qualcosa. E perché la gente sceglie questo tipo di apprendimento? Beh, non certamente perché è il preferito, ma perché, contrariamente a quello che è il buonsenso, credono che sia una forma di apprendimento che non costa nulla. Perché il ragionamento che fanno è, non compro il corso, non compro il libro, non mi faccio spiegare da qualcun altro come si ottiene un certo risultato. Lo imparo da solo, perché questa è una forma di apprendimento gratuita, no? Non mi costa nulla, non devo fare nessun tipo di investimento. Ecco, questo è un gravissimo errore, perché è vero, facendo errori, prima o poi, potresti essere in condizione di imparare finalmente ciò che vai imparato per ottenere il tuo risultato. Ma tutto questo ha un costo. Il tuo tempo, per esempio. La tua energia. Ecco, queste sono delle variabili che devi incominciare a prendere in considerazione se vuoi realmente avere una visione chiara e completa di quelli che sono i tuoi costi per raggiungere il tuo obiettivo. Perché te lo assicuro, per raggiungere un obiettivo bisogna sempre pagare il prezzo. Ora, a volte questo prezzo avrà a che fare con il costo economico di fare una scertazione o con l'investimento da fare. Altre volte il tuo costo è semplicemente il tempo che devi dedicare, lo sforzo che ci devi mettere, l'energia che devi spiegare. Ecco, quando una persona decide di utilizzare questa forma di apprendimento va incontro, paradossalmente, alla forma di apprendimento più costosa in assoluto. Perché non c'è niente da fare. Se vuoi imparare da solo un certo qualcosa, dovrai commettere trilionate di errori. E qui c'è un punto molto importante, perché vedi, io sono il primo che insegna i suoi studenti a interpretare nel modo corretto il fallimento. Il fallimento non è mai una cosa negativa. Il fallimento è un feedback che ti può dare le informazioni necessarie per apprendere e ottenere il tuo obiettivo. Il punto è che però devi capire che ogni volta che commetti un errore, beh, devi ragionare, interpretare questo errore ed estrapolare un insegnamento che la volta dopo dovrai mettere in pratica. Perché se no, non raggiungerei mai il tuo obiettivo. Quindi se il tema è semplicemente fare errori e poi un giorno non si sa bene per quale motivo ottenerò il mio obiettivo, sappi che ti stai mettendo in condizione di dare craniate contro il muro. Non cambierà mai nulla e ti ritroverai a un certo punto sanguinante. Quindi mi va bene l'approccio del faccio pratica, faccio esperienza, commetto errori, imparo dai miei errori, a patto che tu realmente stia utilizzando questi errori per apprendere qualcosa. E ancora una volta apprendere significa incominciare a fare azioni diverse da quelle che hai solito fare. Ora, qual è il problema? Che nel momento in cui tu decidi di apprendere da solo, quello che stai effettivamente dicendo a te stesso è che ti trovi in una situazione nella quale non sei consapevole di un certo argomento. D'altra parte, se fossi consapevole di quell'argomento, beh, non avresti bisogno di apprenderlo. E il problema è proprio questo. Il problema è che nella tua ignoranza del momento, che non è un insulto, è semplicemente una constatazione dei fatti, beh, è molto più difficile interpretare nel modo giusto gli insegnamenti. È molto più difficile interpretare nel modo giusto gli errori che commetti. È molto più difficile riuscire a degnare un percorso che ti permette effettivamente di ottenere un risultato. Ed è questo il problema. Tanti cercano di fare gli autodidatti, perché no? La storiella che su YouTube c'è tutte le informazioni, o mi basta leggere il solito libro, pensa di chi c'è te stesso, ognuno ha la sua. E si crede che semplicemente, mettendo in pratica queste informazioni da soli, limitando al minimo indispensabile il costo, l'investimento, si possano ottenere grandi risultati. Beh, questa è una profonda cavolata. Non succederà mai. La realtà dei fatti è che quando investi in soluzioni a basso prezzo, beh, quello che ottieni in cambio sono risultati di poco valore. E su questo non c'è discussione di sorta. È sempre successo la stessa cosa. Perché la realtà dei fatti è che devi pagare il prezzo per ottenere il tuo obiettivo. Quindi più grande e elevato è il tuo obiettivo, più alto sarà il prezzo da pagare. E allora qualcun altro, capendo che effettivamente da solo è molto più difficile raggiungere un risultato, sceglie la seconda forma di apprendimento, che consiste nell'essere supportato dal famoso gruppo dei pari. Che poi all'atto pratico è qua significa, scusate se vado dritto al punto e magari metto il dito nella piaga per qualcuno di voi, ma qualcuno deve pur farlo questo lavoro. Nella maggior parte dei casi, la vostra visione contorta e malsana del circo dei pari, vi porta fondamentalmente a fare una cosa. A fare comunella, a fare gruppetto, con altre persone che si trovano esattamente nella vostra stessa situazione. E questo è un enorme problema. Perché diciamocela tutta, il tuo obiettivo è guadagnare 100.000 euro netti al mese? Beh, sono sicuro che in questo momento frequenti tanti tipi di persone, ma difficilmente persone che guadagnino quella cifra. Ora, secondo te, com'è più facile ottenere questo risultato? Continuando a frequentare persone che come te vorrebbero guadagnare 100.000 euro netti al mese, ma non sanno cosa fare per ottenere questo risultato? Oppure frequentare delle persone che guadagnano già quella cifra? Ecco, lo so già qual è l'obiezione che molti avranno in questo momento. Eh Roberto, ma come faccio ad entrare in contatto con persone di questo tipo? E' proprio questo il punto. Il circo dei pari, per definizione, non è un modo sbagliato di apprendere, ma all'atto pratico per molti di voi, soprattutto chi si trova all'inizio, è un grave errore. È una forma di apprendimento che è inefficace, inefficiente, e che ti porta soltanto ad andare in conto ad un rischio. Quello di frequentare persone che avendo il tuo stesso rielo di consapevolezza, e quindi fondamentalmente persone che non hanno chiarezza di come raggiungere il loro obiettivo, finiscono per influenzarti e per aiutarti a cambiare, sì, le tue abitudini, ma in senso negativo. Perché l'unico rischio al quale vi incontro è che queste persone e i loro condizionamenti, le loro abitudini negative, il loro modo sbagliato di pensare, finisca per influenzarti, e finisca magari per portarti a sviluppare delle nuove abitudini che non sono coerenti con il tuo obiettivo. Per cui, se la prima forma di apprendimento è molto costosa, è molto lunga, e consiste nell'apprendere da solo, e la seconda forma è completamente inefficace, perché significa fondamentalmente frequentare persone che come te non hanno cognizione di causa di cosa bisogna fare per raggiungere un obiettivo, qual è la terza forma di apprendimento che, guarda un po', è la mia preferita e sono convinto dovrebbe essere anche la tua preferita. È quella di utilizzare un mentore. E qui ritorniamo alla domanda iniziale. Ti dicevo, non è il cosa, non è il come, ma è il chi. La domanda che dovresti farti è chi ha già raggiunto il mio obiettivo ed è in grado di indicarmi la strada da perseguire? Che attenzione non significa come va di modo in questo momento scegliere qualcuno che faccia le cose al posto tuo. Non stoppa no di done for you o di e-commerce già fatti e pronti all'uso, che come abbiamo visto sono la maggior parte dei casi le truffe. Sto parlando di un mentore, di una guida, di un coach, chiamalo voi tu. Sto parlando di qualcuno che nel percorso è qualche step più avanti e può effettivamente condividerti la sua esperienza, non quella millantata, ma quella reale, che lo ha portato ad ottenere certi risultati. Perché vedi, da questa condivisione hai due importanti benefici. Prima di tutto, puoi apprendere dagli errori che qualcun altro ha già commesso per te. Il che significa che puoi risparmiare un sacco di tempo, un sacco di fatica, ma soprattutto puoi risparmiare un sacco di errori economici. Perché conoscere questi errori, conoscere quali sono i problemi che magari neanche se ancora esistono, ma scoprirai più avanti il tuo percorso, e beh, ti fa avere, ti fa andare tanti step avanti rispetto al tuo percorso. Ti fa avvicinare notevolmente al tuo obiettivo e ti aiuta a ridurre al minimo indispensabile il prezzo da pagare per raggiungere il tuo obiettivo. Ma c'è un altro importante beneficio di quando si ha un giusto mentore, una giusta guida. Hai sempre qualcuno che da fuori è in grado di indicarti la strada, è in grado di dirti se stai pensando nel modo giusto o nel modo sbagliato, è in grado di dirti se l'azione che hai deciso di fare è giusta o sbagliata, è in grado di dirti se il tuo processo di cionale funziona oppure no, è in grado di dirti se la tua strategia è quella giusta oppure no. Insomma, hai qualcuno che ogni volta da fuori è in grado di dirti se stai andando in una direzione giusta o in una direzione sbagliata. Il che tradotto è qua significa che se qualcuno da fuori consapevole del tuo obiettivo perché l'ha già raggiunto ti dice che sei andando in una direzione giusta, beh, spingi, no? Focalizzati ancora di più su quello che stai facendo perché sei in una direzione giusta. Oppure viceversa, ti dice che sei andando in una direzione sbagliata, fai subito zigzag, cambia immediatamente la direzione perché sai già che sei andando in una direzione sbagliata. Ecco, questa è l'importanza di avere un mentore, di avere una guida e questa è la ragione per la quale la terza forma di apprendimento per quanto mi riguarda è quella che mi ha sempre dato maggiori soddisfazioni. Io ho sempre avuto un mentore, una guida, qualcuno che mi indicasse la strada da perseguire. Ora, attenzione ad un aspetto importante perché qualcuno potrebbe cadere nell'errore di credere che avere un mentore significa semplicemente scegliere un formatore, un guru, quello che volete voi e magari comprare qualche corso di questa persona o farsi seguire indirettamente in qualche modo. Non è questo ciò che fa un mentore e non è questo ciò che dovresti ricercare in un mentore. Qui non si tratta di scegliere qualcuno che è pronto a darti delle informazioni pacchettizzate all'interno di un corso. Qui si tratta di scegliere qualcuno con il quale poter interagire. Costantemente, ogni volta che ne hai bisogno. Qui si tratta di avere qualcuno che possa diventare un accountability partner. Quindi qualcuno che ti aiuti a stare sul pezzo, focalizzato su quello che bisogna fare per raggiungere il tuo obiettivo. Qualcuno che sia in grado di darti informazioni viso a viso, fisicamente o digitalmente, poi quello è un altro dettaglio, ma che ci sia interazione e che ti sappia effettivamente dare dei feedback costanti se saranno nella direzione giusta o nella direzione sbagliata. Questa è la ragione per la quale durante il mio percorso ho sempre avuto un mentore con il quale confrontarmi. Un mentore con il quale potessi confrontarmi dal vivo o comunque in digitale con delle consulenze private dove il tempo a disposizione era sufficiente e le condizioni soprattutto di questa interazione erano adeguate per poter avere dei feedback e per poter sapere se stavano nella direzione giusta. Bob Protter, Dan Kennedy, sono stati alcuni dei mentori che ho avuto durante il mio percorso e che ho ampiamente documentato nel corso di questi anni. Poi la cosa bella di un mentore è che non deve per forza essere un partner che ti porti dietro in tutto il tuo percorso. Recentemente, ne ho parlato in un altro video, ho preso la decisione, in alcuni casi decisione anche obbligatoria vista che ad esempio Bob Protter era morto, di scegliere delle nuove figure, quindi dei nuovi mentori, delle nuove guide che mi potessero indicare quelli che sono gli step da compiere in questo mio nuovo percorso, in questo mio nuovo obiettivo. Quindi vorrei che interpretassi la figura del mentore esattamente come te la sto descrivendo, quindi come una persona che è più avanti nel tuo percorso, qualche step più avanti, ha già raggiunto l'obiettivo che desideri e in grado di dirti esattamente che cosa devi fare, ma soprattutto non lo stai sposando. Quindi oggi potrebbe andare bene un mentore, domani potrebbe andare bene un altro, perché alla fine la fiera è soltanto un acceleratore, una scorciatoia per raggiungere il tuo obiettivo. Io personalmente ho sempre scelto questa forma di apprendimento e visti i feedback e i risultati che mi ha garantito, i benefici che ho ottenuto, continuerà ad essere la mia forma di apprendimento migliore ed è per questo che ogni volta che interagisco con l'idea di perseguire un obiettivo, la vera e unica domanda che mi faccio non è cosa fare, non è come farlo, ma è chi, a chi mi devo affidare, chi devo seguire, chi può essere la mia guida, il mio mentore per raggiungere quell'obiettivo. Ecco, a questo punto la domanda delle domande che magari qualcuno potrebbe farsi è, Roberto, ma tu potresti essere questa persona? Beh, dipende, dipende da quello che è il tuo obiettivo perché, ancora una volta, se magari il tuo obiettivo è un qualcosa che non ho mai fatto nella mia vita, evidentemente non posso essere la giusta guida, il giusto mentore per te. se il tuo obiettivo ha a che fare con l'ambito economico, quindi sei interessato a diventare un imprenditore di successo e da un punto di vista numerico, perché poi ci interessa entrare nel pratico, il tuo obiettivo ha a che fare con le sette figure nette l'anno, quindi se il tuo obiettivo è guadagnare un milione, un milione spicci netti all'anno, beh, posso essere il tuo mentore perché ho già raggiunto questo obiettivo e so esattamente che cosa bisogna fare per raggiungerlo. Se vuoi guadagnare di più, perché magari, come il sottoscritto del tuo obiettivo adesso è fare otto figure nette all'anno, non ti posso ancora aiutare. Ecco, questo credo che sia il modo più trasparente possibile per così portare chiarezza a tutti quelli che mi seguono, sia rispetto a quelli che sono gli step da compiere nel proprio percorso e quindi evidentemente lo step numero uno è trovare una risposta alla domanda chi, ma sia soprattutto per portare chiarezza rispetto a fatto che posso o meno aiutarti nel tuo percorso. Poi, lo strumento mediante il quale tutto avverrà, beh, è Master 10K e Master 30K. Master 10K è il percorso annuale pensato per coloro i quali sono all'inizio del loro percorso, quindi tipicamente abbiamo a che fare con aspiranti imprenditori o magari imprenditori che ci hanno provato ma che non sono ancora riusciti a creare il loro business di successo, quindi da un punto di vista numerico qui abbiamo a che fare con quelle persone che aspirano a guadagnare le sei figure nette l'anno, quindi i famosi 100.000 o 120.000 o quello che diavolo è netti all'anno. Master 30K è invece un percorso avanzato, è un percorso per chi ha già un business che funziona e lo vuole semplicemente scalare, lo vuole far crescere, lo vuole migliorare, vuole insomma fare il passaggio dalle sei alle sette figure. Ecco perché è un percorso avanzato perché ovviamente ci sono degli strumenti e dei processi, dei sistemi, c'è una maggiore attenzione alla parte della strategia che ovviamente è necessaria per poter scalare. Se vuoi avere maggiori dettagli in descrizione a questo video trovi un link che ti rimane da una chat whatsapp dove potrai parlare con uno dei miei consulenti che ho personalmente formato e durante quella consulenza gratuita e senza impegno potrai farti dare tutte le informazioni che ti servono per capire se effettivamente sono il giusto mentore per te, posso essere la giusta guida per farti raggiungere il tuo obiettivo. Dopodiché mi raccomando fammi sapere qui nel box dei commenti qual è la forma di apprendimento che hai utilizzato maggiormente fino a questo momento ma soprattutto lascia un like se vuoi avere altri video che riguardano il mindset applicato al business. Dopodiché noi ci vediamo ovviamente al prossimo video quindi fai il tuo gioco ma soprattutto al tuo successo.